allora nello scorso episodio ci siamo lasciati qui, siamo in mezzo a un non so cosa uomini, donne, vandiamo, nessuno grida più, ma sento ancora l'eco delle loro voci allora, vediamo un po' qua cosa c'è mamma mia, non mi sento tranquillo in questa zona qua abbiamo l'arma da ricaricare 90, non è la 100 com'è sta cosa aspetta, di qua si va allora, qui non c'è nulla, quindi si va per forza di qua allora devo aprirmi un passaggio, credo di dover fondere qualcosa si lo so Blaskovic, ho visto, però con calma un attimo andiamo un po' in exploration, che ne dici? fondiamo tutto facciamo anche questo mamma mia, non vedo niente io siamo al massimo io non vedo niente ho paura da andare avanti ehi Blaskovic fatti strada tra le macerie e raggiungi lo state building prima arrivi meglio è fergus, chiudo ho capito lettera di mercy allora da caso mettete in pausa allora, così si salta ok vediamo cosa magari c'è qualcosa come dico io di solito è infrascato qua in mezzo ma mi sa di no ma non c'è un ghezzo ma infatti non c'è un ghezzo mia, che zona brutta è anche molto vasta basta ecco andiamo piano con calma di armatura siamo al massimo ci sono coperture qui qui ci sono munizioni la corazza siamo al massimo qua vedete che ci sono dei segnali rilevati ok con calma ci scoperti ci scoperti chi ricosprezione andiamo di so che chiamo qualcuno di qua qua siamo al massimo ok l'ho a zoppato scusi mi rilascia ecco 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 va bene va bene spariamo avanti tu io che fai? vieni fuori? ecco l'impatto ottiti angulo un attimo devo ricaricare pure con questi mirini io non vedo niente ok ok allora ok mamma mia ok è andata a farire oh quasi mamma mia vediamo un po' qua com'è vediamo di qua posso saltare? non è vero si aggrappa allora allora vediamo qua colpi colpi prendi colpi prendi l'armatura tutto prendi tutto andiamo di qua questa porta di qua la mamma mia ah c'era il codice eccola qua codice enigma che non so ancora che cosa serve la 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 allora qui siamo al massimo fangulo fai così che tifondo Muorici Vieni fuori Paura? Sei morto Allora, vieni qua C'è qualche munizione? Cosa c'è qui? Un collezionabile Allora Ma io dovevo andare di qua? Non lo so, sto andando totalmente a caso Niente male, devo mettermi al lavoro per potenziare le armi Potenziare le armi? Allora Eeeh Sparachiodi, caricatore a tamburo Quasi quasi, si Facciamo questo? Sparachiodi? No, no Questo posso farlo qualcosa? No, mi servono i ghettiti potenzialmente, ok Allora Raggiungi lo state building Non ho capito, ma da dove? Io sono venuto di qua C'è un drone Devo potenziare Devo potenziare Dovrei anche Ricaricare St'arma Allora Io non so Dove sto andando C'è un drone Guardare, ma sono di là Guardare, ma sono di là Guardare, ma sono di là Mamma Guardare, ma sono di là C'è un cazzo di drone che non so dove cazzo rola oro dove è sto drone? si può sapere ok qui siamo al massimo dovremmo essere qui adee mi servirebbe un mirino sarebbe utile un mirino mi servirebbe proprio un cazzo di mirino andiamo di qua guarda il segnale è di là di là quindi sei voglio andare di qua allora non è vero mi sono perso allora proviamo a salire di qua 94 93 92 e sono lontano sono ritornato di là qualcosa mi sfugge allora allora i foglietti lo riprendiamo andiamo di qua allora 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 e qua mamma mia è lontano 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 62 62 likely lontano i foglietti conquer Shelby le doing i красивo se lontano tr甘 lontano quema mamma mia partito 1 ma ci deve essere ci dovrebbe essere un modo per salire qualche parte non è vero anche se si potrebbe andare tra l'altra parte non si va di qua a me serve qualcosa per salire va bene vediamo di andare nel prossimo episodio perché mi sono perso quindi alla prossima ciao ciao